non c'è una formula universale per poter guidare un Harley le tecniche di guida di base si applicano a qualsiasi tipo di moto ma mi rendo conto che più passa il tempo più le evoluzioni tecnologiche aumentano anche in casa Harley più mi rendo conto che non ci sono due moto uguali e questo per non solo perché noi le personalizziamo ma anche perché ci troviamo di fronte a moto che non sono semplicemente un mezzo per andare in giro sono più uno stile di vita e questo cosa comporta che ogni moto ha un pezzettino di noi al suo interno che sia una personalizzazione che sia per cui non c'è una formula giusta due spostere apparentemente identici comunque andranno guidati in maniera leggermente diversa grazie a tutti